Una volta ho doppiato la valide, nel senso che anche lì c'era una battuta censurata, nel finale che lei va a denunciare il suo amante all'ufficiale austriaco, l'ufficiale austriaco faceva la signora baronessa, è austriaca, e le rispondeva no, sono trentina. Trentina non si poteva dire perché sembrava che fosse nata a Trento, in realtà a Trentina voleva... Io dissi, gli sconti me ne faceva 400 volte, dissi, perché poi la valle aveva una maniera strana di mettere la bocca, gli d'altro, gli smontavano, capisco, gli slittavano, non so, e faceva no, e dovevi dire no, sono veneta, solo che è veneta in bocca a lei, non c'è stata, perché si vedeva che diceva trentina, e io vedi quella veneta, un'aggiornata, sono veneta, in bocca a quel piano. Signora Contessa è austriaca. Veneta.